Salve da Agro Palati, sono verso la fine per la preparazione delle mie riserve di peperoncini super piccanti, vedete, delle macchie, delle cose lì assolutamente di tipo biologico. Questi vasetti di circa 300 ml sono stati preparati solamente con olio extravergine d'oliva, di quello veramente buono, di alto pregio, attenzione perché non va mai messo l'olio scadendo nei vasetti, se non mettete quello proprio al piccio, rischiate di buttare dopo pochi giorni, se non avete quello extravergine d'oliva, è meglio mettete quello di semi o di girasole, forse adottore meglio quello di semi. A parte ciò, sono stati preparati, vedete in maniera mescolare, mettiamo sia quelli verdi, quelli gialli, quelli rossi, quelli meno verdi, quindi un kit di super fragranza calabrese, un mondo noi siamo un po' più nominati per i peperoncini, forse dopo i messicani ci siamo noi, e ancora la particina è rimasta che io ovviamente farò domani, che vanno molto asciugati, questi qua li faremo poi tritati e mettere in maniera questa roba in olio extravergine d'oliva. Anche qua è una procedura anche particolare, saranno tenuti anche nel miscugio di vino aceto per qualche ora, volendo si possono anche lasciare una giornata, così sgrassiamo il sale, inviudiamo quel anche col protettivo, vedete uno come avvenuto, sono delle bombe queste qua, molto molto interessante, quello di questo ci puoi fare andare un ristorante per un anno con questa roba qua. A parte ciò vi saluto alla prossima occasione da Agro Palati da Michele Experto.